Le buste con le offerte ci sono ma per ora rimangono chiuse. L'Urega non ha ancora provveduto ad individuare i commissari che dovranno valutare le offerte presentate dalle aziende interessate al servizio rifiuti nei comuni della SRR4. Solo per il lotto di Gela non ci sono state richieste, le buste invece sono pervenute per quelli di Piazza Armerina, Niscemi e per i territori di Butera, Riesi, Mazzarino, Sommatino e Delia. Il sorteggio dei commissari che devono essere interni all'Urega è fissato per il 10 gennaio e ci sono stati problemi per costituire la commissione che giudicherà le offerte. L'appalto per il servizio sul territorio di Gela rimane comunque vacante in pochi mesi. Tre procedure sono andate in deserto. La SRR ma anche l'amministrazione comunale dovranno individuare delle soluzioni praticabili. Le attività a livello locale continuano ad essere gestite in proroga dalla Campana Tecra. La Giunta Greco sembra intenzionata a rivolgersi al prefetto di Caltanissetta soprattutto per capire come muoversi in attesa dell'appalto pluriannale che però necessita di tempo prima di essere bandito. Il presidente della SRR4, il sindaco di Riesi, Salvatore Echiantia, spiega di attendere gli esiti che arriveranno dalla commissione di gara. Se dovesse risultare infatti l'aggiudicazione di tutti i lotti allora l'assemblea della SRR si concentrerà solo sulla soluzione da adottare per Gela. In caso contrario bisognerà valutare non soltanto il caso dell'otto gelese ma anche di quelli per i quali risultassero offerte non conformi l'appalto bandito a durata di un anno in attesa della gara che dovrebbe assegnare l'intero servizio per un periodo invece di sette anni.